Tarquini è un antico centro etrusco, situato non lontano da Viterbo, rinomato per la sua tradizione storico-artistica e per le sue suggestive spiagge, bagnate dalle acque del mar Tirreno, che richiamano ogni anno numerosi turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tra i lidi più belli di Tarquinia si ricorda la spiaggia Pandispille, lunga 10 chilometri e caratterizzata da un arenile sabbioso, impreziosito dalla macchia mediterranea. Suggestiva è anche la spiaggia dei bagni di Sant'Agostino, che si affaccia su un piccolo golfo e si trova nelle vicinanze della riserva naturale di popolamento animale Salina di Tarquinia. È coperta da sabbia morbida e dorata ed è bagnata da un mare cristallino e trasparente, con fondali digradanti di sabbia e rocce. Tra il fiume Marta e il torrente Arrone si sviluppa la spiaggia di Spinicci, presieduta da un arenile di sabbia dorata, orlato da fitte pinete e sistemi dunali. Il mare è di un colore azzurro intenso con fondali digradanti e sabbiosi. Per gli amanti dell'archeologia Tarquinia offre numerose necropoli perfettamente conservate, tra le quali si distingue quella dei Monterozzi. Il centro storico è caratterizzato da architetture e religiose di particolare interesse artistico, come il Duomo, dedicato ai Santi Margherita e Martino, edificato nel 1260 e riconosciuto come cattedrale nel 1435. La città conserva soprattutto nella zona settentrionale uno spiccato carattere medievale, accentuato dalla presenza delle mura e delle torri. Grazie a tutti! Grazie a tutti!